un cordiale bentrovato e buonasera a tutti i nostri amici telespettatori buon anno felice duemilaventitredi prendono gli appuntamenti del giovedì e della nostra rubrica oltre la storia per una nuova avvincente stagione che ci traghetterà e ci porterà nei prossimi mesi e lo facciamo alla ripresa del nuovo anno con un argomento davvero avvincente e suggestivo Ettore Maiorana un uomo che ha rappresentato una pagina importante della scienza del mondo scientifico e delle scoperte scientifiche del secolo scorso le cui vicende di vita e di morte risultano ancora avvolte dal velo del mistero e ne parliamo questa sera con un collega giornalista con un ospite prestigioso e pregevole che ne ha curato nel corso del tempo le storie e la storia dedicandosi al caso di Maiorana restate in nostra compagnia presenteremo tra poco Rino Di Stefano a tra poco e poi dopo la sì Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie ad aver accettato il nostro invito, l'invito che ti ha rivolto per noi, il mio compagno di avventura che saluto e ritrovo, buon anno anche a te, Edoardo Orma in diretta e in studio con noi. Buonasera Edoardo. E' così qua, ciao Salvatore, buonasera a tutti gli amici di TV City e un saluto anche a Rino che lo guardiamo subito con una bella domanda. Ciao Edoardo. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Esatto. Grazie a tutti. Edoardo. Grazie a tutti. 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 Perché io ho stato guaduto l'ho portato avanti fino al gennaio del 2022 quando il protagonista di cui parleremo questa sera, cioè Rolando Pelizza, è venuto a mancare a causa dell'infezione del covid. Aveva 83 anni quando è morto. Dunque, che cosa è successo? Praticamente nel 2009 qualcuno mi ha fatto arrivare, ha voluto che io leggessi, un dossier che riguardava una fondazione di carattere religioso che aveva sede nel Liechtenstein, a Baduz, capitale del Liechtenstein, vicino alla Svizzera. In questo dossier si raccontava che questa fondazione era in possesso di una tecnologia assolutamente fantastica per quelli che sono i nostri canoni, per quello che è la nostra conoscenza della fisica. Per esempio, non so, poteva distruggere le scorie nucleari, poteva scavare delle gallerie nelle montagne senza lasciare detriti. Insomma, dei lavori che noi normalmente facciamo eseguire con sistemi molto più meccanici e molto più banali rispetto a quello che dicevano loro. Cioè, praticamente loro parlavano di puntare un raggio contro la montagna e scavavano una galleria. Insomma, erano cose del tutto futuristiche, diciamo. Ora, questo dossier mi ha rivelato soprattutto che questa fondazione era una fondazione, come dire, fittizia, perché in effetti parlava di avere questa tecnologia ma non l'aveva. Invece, chi stava dietro a questa fondazione, cioè colui che deteneva l'invenzione di queste cose, si chiamava Rolando Pelizza ed era un imprenditore di Brescia. Ora, io sono venuto a contatto con questo signore, questo è successo nel 2010, perché io ho cominciato la mia inchiesta, io vengo dal giornale di Montanelli, dove ho passato quasi 30 anni della mia attività, e nel 2010, circa un anno dopo che sono venuto a conoscenza di questo caso, ho iniziato la mia inchiesta per cercare di appurare la realtà su quello che era veramente accaduto. Ora, devo dire che questa storia ha dei risvolti che potrebbero sembrare quasi da favola, quasi da fantascienza, ecco. Perché si parla di una macchina, di qualcuno che avrebbe inventato una macchina in grado di annichilire la materia, di riscaldare la materia, di trasmutare la materia, cioè da un elemento all'altro a piacimento, e addirittura di traslare la materia, provocando con un ritorno nella fase originale a un presunto ringiovanimento, che potrebbe riguardare sia oggetti inanimati, sia soggetti animati. Ora, io mi rendo conto che parlare di queste cose sembrerebbe quasi avventurarsi nel mondo della fantascienza, ma così non è, perché in effetti questo signore, questo imprenditore, Rolando Pelizza, salì alla ribalta della cronaca nel 1976, quando la società di cui lui presiedeva venne in contatto con il governo italiano dell'epoca, era il terzo governo Andreotti, e stabilì un accordo con il governo italiano. Devo dire, per amore di sintesi, per non dilungarmi troppo, che successivamente, oltre al governo italiano, di questa storia se ne occuparono sia il governo americano, che allora era presieduto da Gerald Ford, sia il governo belga, che allora aveva come presidente Leo Tindemans. Quindi stiamo parlando di una storia inverosimile, sono il primo a dirlo, di una storia incredibile, ma che ha dei risvolti del tutto concreti. Cioè, qui, insomma, quando si parla di certe personalità che sono venute a contatto con questa storia, per esempio, non so, tanto per fare qualche nome della politica italiana, Flaminio Piccoli, che era allora segretario della democrazia cristiana, Loris Fortuna, che poi successivamente sarebbe diventato il promotore del referendum sul divorzio, insomma, Martino Azzoli, che addirittura fu per un certo periodo avvocato di Rolando Pelizza. Insomma, stiamo parlando di tutta una serie di personaggi che in qualche modo vennero coinvolti direttamente in questa questione. La cosa è durata fino al 1984, perché poi ci sono stati ovviamente diverse fasi di questo racconto, e nel 1984, quando entrò in questa storia il giudice Carlo Palermo, che durante la sua inchiesta sul traffico d'armi, addirittura accusò Pelizza di aver costruito un'arma micidiale chiamata il raggio della morte. Premetto che successivamente Rolando Pelizza venne assolto, quindi l'accusa decade, però insomma tutte queste cose messe assieme costituiscono un curriculum di avvenimenti che ci fanno pensare che tutto quel, non ci fanno pensare, veramente abbiamo prove scritte e documentate di questo, che insomma dietro una storia per quanto incredibile, per quanto inverosimile, in effetti accadde qualcosa di concreto. Rino, permettimi, una duplice domanda, prima domanda, ma il nome di Majorana, ecco, nello specifico, a che cosa si lega in ambito di scoperte scientifiche? Perché poi, secondo alcuni, da lì parte tutto, perdonami, ti faccio la seconda e chiudo, e secondo te, se la vicenda della scomparsa a questo punto è da ascriversi alle sue scoperte scientifiche, quindi a quelli che erano i risultati raggiunti in campo scientifico, oppure, così come paventato tra le varie ipotesi, a motivazioni solo di carattere, solo ed esclusivamente di carattere personale. Allora, per quanto riguarda il nome di Majorana, venne fuori in un secondo tempo, non in un primo tempo. Infatti, in un primo tempo, Rolando Pelizza diceva che questa scoperta, cioè la scoperta che avrebbe poi portato alla realizzazione di quella macchina, diceva che era opera di un gruppo di ricercatori europei. Successivamente, quando lui sostenne di avere ricevuto dal suo maestro, come lo chiamava lui, il benestare, allora a quel punto lui fece il nome di Majorana e disse che in effetti colui che aveva progettato la macchina era appunto Ettore Majorana. Dove lo aveva conosciuto Ettore Majorana? Secondo il suo racconto, lui nel 1958, all'età quindi di vent'anni, perché lui era del 1938, era nato il 26 febbraio del 1938, lui si sarebbe recato in un convento, in un monastero, dove doveva vendere una partita di calzature, perché la sua azienda di famiglia si interessava di calzature. Lui si è recato in questo monastero, ha conosciuto un certo frate, che poi abbiamo saputo che questo frate si faceva chiamare Padre Ambrogio e questo signore, questo frate, lo avrebbe preso a ben volere e gli avrebbe detto che era in grado di insegnargli una nuova matematica, un nuovo tipo di fisica. Tenete presente che Rolando Pelizza non aveva studi accademici alle spalle, per cui aveva semplicemente questa predisposizione, come del resto hanno molte persone, diciamo così una predisposizione matematica, era agevolato, diciamo così, ad apprendere le regole matematiche, per cui questo frate gli propose di studiare con lui, di andare in questo convento e di apprendere quello che lui gli avrebbe insegnato. Ora, Pelizza non ha mai detto di quale convento si trattasse, infatti in un primo tempo era nata la leggenda che Ettore Majorana, scomparendo, avesse deciso di rifugiarsi in un monastero del sud dell'Italia. Non era così. Io sono riuscito, attraverso le ricerche che ho fatto, stiamo parlando di... le mie indagini sono durate 13 anni, non è che siano durate qualche giorno. Per un errore, a causa di un errore che fece un religioso, fece un grossolano fotomontaggio, io venne a scoprire che questo fotomontaggio era stato architettato nel monastero della Certosa di Calci, a Pisa. Ora, questo era molto più verosimile rispetto al racconto del convento del sud Italia, in quanto, in un secondo tempo, poi venne fuori che quel convento del sud Italia poteva essere l'eremo di Serra San Bruno, nell'aspromonte calabrese. Ora, Rolando Pelizza viveva a Chiari, in provincia di Brescia. Ora, tra Chiari e Serra San Bruno ci sono esattamente 1200 erotti chilometri. Quindi, se uno va a controllare su Google Maps, si fa presto, stiamo parlando di 12 ore di auto. Cioè, per raggiungere da Chiari e Serra San Bruno ci vogliono 12 ore di guida ininterrotta. Quindi, insomma, si fa presto a comprendere tra soste, mangiare, riprendere, insomma, ci voleva davvero molto per arrivare lì. Ora, Pelizza parlava invece di frequenti visite a questo convento e non era possibile che fosse così distante. e in effetti poi quando l'ho messo alle strette gli ho mostrato la foto che io avevo trovato che corrispondeva esattamente al posto dove avevano fatto questo stupido, direi, fotomontaggio e allora lui mi pregò di non dire niente ma comunque era vero lui andava alla certosa di Calci a incontrare il suo maestro cioè Ettore Majorano. Ora, tra Chiari e Calci che rimane a Pisa ci sono 300 e passa chilometri. Quindi stiamo parlando di un viaggio di tre ore e mezzo circa d'auto che è molto più comprensibile rispetto ai dodici che ci vorrebbero per andare in Calabria. E questo già aveva come dire costituiva già un punto fermo nel racconto di Rolando Pelizzi. Ora, che cosa accadde? Lui sostiene che infatti impiegò praticamente tutte le sue fortune di famiglia in questa operazione di avere costruito 228 macchine prima di poter raggiungere la macchina che funzionava a menadito a perfezione. tenete presente che ogni macchina a oggi diciamo così ai prezzi di odierni costerebbe circa 90 mila euro e c'è un motivo perché all'interno di questa macchina tra gli elementi necessari per farla funzionare eh sì qui si vede l'interno della macchina il cuore della macchina diciamo e all'interno di 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 questa macchina ci sono due elementi molto costosi che sono oro e platino ora per è ovvio che insomma per ogni macchina se oggi costa 90 mila si può ci si può riferire al passato e quindi si capisce che anche a quel tempo non è non si trattava di una di una cifra tanto modica anche se se in effetti questa macchina e avesse operato esattamente come diceva di operare qui per esempio nelle foto che state mostrando si si vede una prova c'è pelizza con gli occhiali scuri che fa vedere un materiale che poi viene colpito dal raggio della macchina e viene assolutamente distrutto disintegrato in termini fisici annichilito ora che cosa che cosa avrebbe comportato una cosa di questo genere senz'altro l'impiego della macchina per scopi bellici perché è evidente che una macchina in grado di puntare un raggio distruttivo distruttivo e colpire un dato bersaglio e questo bersaglio quando viene colpito dal raggio viene disintegrato è praticamente la macchina perfetta per per diciamo così a scopi militari voi potete immaginare cosa significa anche perché la macchina secondo quello che pelizza diceva vi ripeto io riferisco perché poi di come dire di conferme tecniche ne abbiamo molto poche forse l'unica sostanziale è quella esercitata dal professor Ezio Clementel che nel 76 era anche presidente del CNEN il comitato per l'energia nucleare e che venne incaricato da Andreotti di studiare questa macchina per verificarne le potenzialità ed è quello perdonami abbiamo abbiamo una domanda dal nostro pubblico però volevo anche fare un momento una mia considerazione tu prima parlavi della Certosa di Serra San Bruno no sì la Certosa di Serra San Bruno è quella in Calabria Certosa di Nota è da credere da ritenere vera che anche in visita lì nel 1984 l'allora pontefice Giovanni Paolo II avesse poi menzionato a proposito di quella Certosa la ospitalità data a personaggi illustri tra cui anche Majorana e ti faccio un'altra domanda se è da credere e da ritenere veritiera l'aver avvistato l'aver visto Ettore Majorana a Valencia in Venezuela nel frattempo ti leggo anche la domanda del nostro amico dal pubblico così che fai un unico un'unica risposta ci scrive Giorgio Mele buonasera Giorgio è vero che si fece analizzare una lastra d'acciaio forata dalla macchina di Majorana pellizza e che da un'analisi risultarono dodici minerali diversi grazie Giorgio a te Rino allora iniziamo con la prima domanda sì la prima domanda era scusa Giovanni Paolo secondo Giovanni Paolo secondo è verissimo Giovanni Paolo secondo andò a visitare l'eremo di Serra San Bruno disse pubblicamente che quel convento aveva ospitato il genio di Ettore Majorana e i frati lo smentirono dissero che il Papa si sbagliava che non era mai accaduto e negarono assolutamente la presenza di Ettore Majorana ma non è solo questo e fu ci fu anche un secondo Papa ad andare a visitare l'eremo di Serra San Bruno e fu Benedetto XVI perché prima è stato Giovanni Paolo secondo poi c'è stato Benedetto XVI entrambi sono andati lì ora per quale motivo ci sono andati ovviamente si può solo supporre comunque loro andarono lì e fu particolarmente curiosa la questione di Giovanni Paolo II perché appunto ci fu la negazione da parte dei frati che quello che lui aveva detto fosse vero e da dove veniva secondo te al Papa questa informazione Rino e se effettivamente al Papa si può dare poi una informazione che è distorta cioè sembrerebbe che c'è qualcosa effettivamente che non quadra sì non c'è dubbio la Vox Populi diceva cioè la gente ormai parlava abbastanza apertamente che in quell'eremo si trovava un frate e questo frate sarebbe stato Ettore Majorana ripeto questa era una voce popolare e non era verificata da niente però venne raccolta da qualcuno in Vaticano e Giovanni Paolo II ritenne di doverne parlare pubblicamente i frati però lo negarono non non vogliono addirittura arrivarono a scrivere un libricino proprio una minuscola pubblicazione dove dissero che non era assolutamente vero che Ettore Majorana fosse stato lì Grazierino la domanda è poi la parola di Edoardo la seconda domanda la seconda domanda mi ricorda giustamente la regia è quella del Venezuela c'è chi dice di aver visto Majorana Valencia in Venezuela dunque allora questa io mi sento di negarlo per tutta una serie di ragioni per tutta ecco per esempio esattamente quella che state facendo vedere adesso per il semplice motivo che qui parliamo di fatti concreti non parliamo di ipotesi allora Ettore Majorana era uno dei pochi fortunati cui il fascismo concedeva un passaporto perché una delle prime operazioni che aveva fatto il regime fascista era quella di abolire i passaporti per uscire dall'Italia ok quando andò al potere infatti concedeva soltanto il permesso di emigrare in determinate situazioni però delle personalità di un certo tipo come appunto è il caso di Ettore Majorana avevano il passaporto il passaporto di Ettore Majorana secondo il racconto della madre della madre di Ettore Majorana Dorina Corso era stato emesso in corrispondenza del compleanno del figlio il figlio era nato il 5 agosto del 1906 per cui il passaporto che era in possesso di Ettore Majorana era scadeva esattamente per quella data i primi di agosto doveva essere rinnovato questo passaporto non è mai stato rinnovato quindi non c'è niente che possa far pensare che Ettore Majorana abbia lasciato i confini nazionali mentre è molto più verosimile il discorso che lui si fosse rifugiato in un convento in questo caso nella certosa di Calci grazie all'aiuto del Vaticano perché lui era protetto era protetto anche dall'arcivescovo della zona di Pisa il quale lo aveva raccomandato lì su incarico del Vaticano insomma Ettore Majorana si era rifugato in un convento secondo secondo quelle che sono le mie indagini e secondo quello che sono i documenti di cui disponiamo oggi però ripeto non abbiamo una prova concreta non abbiamo un qualche cosa di evidente che ci possa dimostrare questo ok qui bisogna essere molto chiari perché altrimenti sembrerebbe che io voglia vendere una verità che non ho non è così diciamo che ci sono c'è tutta una serie di combinazioni che confermano che Ettore Majorana in effetti si fosse rifugiato in in quel convento e lì è rimasto fino al 1970 o 72 perché la chiusura definitiva del del convento di Calci è stata nel 72 e allora i 15 frati che erano nella certosa di Calci vennero suddivisi in parte vennero mandati all'eremo di Serra San Bruno che apparteneva allo stesso ordine monastico e in parte in un'altra certosa lì vicino allora Ettore Majorana sarebbe stato tra quelli trasferiti al in Calabria la terza domanda è riguardo del nostro amico è vero che lei fece analizzare una lastra d'acciaio forata dalla macchina di Majorana Pellizza e che da un'analisi risultarono 12 minerali diversi esatto sì ma non sono stato io non sono stato io è stata un'altra persona la quale mi ha dato l'analisi fatta su questo reperto e io tra l'altro ho pubblicato questo risultato nel mio libro tra i documenti che io inserisco nel libro ci sono c'è proprio ci sono i grafici di questa analisi dove risulta che analizzando questo pezzo che questo pezzo d'acciaio che sarebbe stato forato appunto dalla macchina comandata da Rolando Pellizza e nei bordi nei bordi del buco dove doveva esserci semplicemente un metallo cioè l'acciaio di cui era composta questa lastra invece c'erano 12 minerali diversi questa fu la causa anche per cui una ben nota università lombarda dopo aver preso visione di questo decise di non interessarsi più a questo problema Grazierino Edoardo la parola a te sì esattamente ti ho seguito bene infatti io spesso quando penso a questi grandi scienziati della fisica del novecento Tesla uno di quelli Majorana Einstein Enrico Fermi sono stati forse i più grandi conosciuti che vogliamo della fisica del novecento non avevano a disposizione un computer non avevano a disposizione una calcolatrice facevano tutti i calcoli a mano ho letto ho letto che Majorano li faceva su un pacchetto di sigarette era solito farlo allora mi sembra strano o perlomeno ragionare sul fatto che noi oggi per costruire una macchina di antiparticelli dobbiamo andare al Cern di Ginevra costruire un palazzo enorme e noi con la poco conoscenza in termini proprio di tecnica di fisica aveva costruito un macchinario che ripeto quello che hai detto che faceva quattro cose faceva la free energy quindi generava energia pulita creava dei portali dimensionali o perlomeno come ultima fase e la trasmutazione della materia che prendeva cambiava proprio il senso della materia eduardo questa è la descrizione vada bene questa è la descrizione che venne data dallo stesso Majorana in una lettera del 1964 periziata come autentica perché è stata periziata dalla dottoressa Chantal Sala del tribunale di Pavia e lei appunto ha accertato che quella lettera era stata scritta vergata a mano dal dal signor Majorana Ettore ora quindi noi sappiamo che questa lettera sarebbe stata scritta proprio da lui e lui spiegava quelle che erano le fasi di questa macchina però oltre a questo noi ed è quello il problema principale noi non abbiamo nessuna documentazione scientifica o meglio abbiamo piccole cose ma non abbiamo un esame scientifico da parte di esperti di quella macchina è per questo che si crea il contenzioso cioè a un certo punto tu parli di una macchina che fa quasi miracoli allora ma devi avere un qualcosa in mano qualcosa che ti dica sì in effetti questa macchina era così ok noi questo non l'abbiamo noi abbiamo queste prove circostanziali e abbiamo anche l'analisi fatta dal professor Clementel però non abbiamo uno studio su questa macchina questa macchina non è mai stata analizzata da nessuno ecco questa è la dottoressa Chantal Sala che ha fatto tre perizie calligrafiche su diverse lettere di 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 ed è arrivata alla conclusione che quelle lettere vennero scritte proprio da lui ora stiamo parlando di anni molto successivi al 1938 qui si parla del 64 ma anche degli anni 2000 quindi questo è il professore scusate l'ingegnere Michele Vitiello che ha fatto l'analisi delle fotografie che Pelizza fornì nel 2014 in queste foto che risalgono al 76 86 96 si vede Ettore Majorana davanti a un mureto o lui insieme a Pelizza e l'ingegnere Vitiello che è titolare di uno studio che si occupa proprio di queste cose e che collabora tra l'altro con i tribunali di mezza Italia e con i carabinieri insomma una persona un personaggio molto molto noto ecco qua vedete quella del 1996 la foto del 1996 dove si vede Pelizza a destra che allora aveva fate il calcolo lui era il 38 cosa è 58 anni mi pare e la persona a fianco invece sarebbe Ettore Majorana Ettore Majorana nel 1996 avrebbe dovuto avere 90 anni visto che era nato nel 1906 vi sembra la foto di uno che ha 90 anni e questo ha creato dei problemi anche a me personalmente nel senso che nel corso della mia inchiesta quando io ho fatto vedere questa foto ai responsabili del mio giornale mi hanno detto ma guarda Rino che questa persona non può avere 90 anni e io sfido chiunque a dire che questo signore che dimostra sia una cinquantina d'anni forse anche meno abbia 90 anni suonati Rino perdonami una domanda a proposito di questa foto cioè due due domande noi abbiamo la certezza che lì non c'è alcun fotomontaggio giusto? assolutamente perfetto assolutamente e quindi potrebbe essere che si tratti di non voglio dire di un socio non voglio dire che c'è una volontà o c'è un dolo se fosse una intenzionalità dietro alla composizione di questa foto ma a me sembra anche il viso di un quarantenne perché un viso esatto sono perfettamente d'accordo allora qui bisogna analizzare cioè bisogna leggersi la perizia dell'ingegner Vitiello che tenete presente che l'analisi fatta su questa fotografia e sulle altre confrontate con le foto originali fornite dal professore Erasmo Recami che adesso non c'è ecco questa è la perizia dell'ingegner Vitiello e senza nessuna possibilità di dubbio dopo 63 pagine di perizia afferma che le foto degli anni 30 di Ettore Majorana ripeto fornite dal professore Erasmo Recami che era purtroppo è mancato ma era il biografo ufficiale di Ettore Majorana e confrontate con le nuove foto che abbiamo appena visto tra l'altro quelle che avete mostrato adesso ebbene è la stessa persona è la stessa persona questo è quello che dice la perizia ora noi vogliamo attenerci prego ora una domanda proprio a te cioè dal tuo punto di vista perché anche io poi mi sono appassionato al personaggio al caso e ne sto leggendo veramente da tempo tu che l'hai curato per 13 anni questo caso cioè nella presentazione della personalità di Majorana emerge a tutti il fatto che si trattasse di una persona molto schiva molto riservata molto chiusa al punto che è proprio questa una delle ipotesi del suo isolamento dalla società cioè il fatto che aveva una repulsione quasi a pelle per la socialità intesa nel senso più ampio del caso ti sembra possibile poi che una persona così schiva di carattere in questa foto possa sorridere perché io vedo un sorriso sereno vedendolo da spettatore da profano totalmente vedo una persona che anzi è compiaciuta di avere questo tipo di foto secondo te per un uomo che invece rifuggiva da qualunque cosa è possibile poi dopo 90 anni avendo 90 anni pure se ne dimostra 40 aver mutato un tratto poi saliente determinante del suo carattere allora noi dobbiamo prima di tutto studiare quello che era il personaggio Ettore Majorana fino al suo trentunesimo anno cioè quello che noi sappiamo noi lo conosciamo dalla nascita al trentunesimo anno poi lui è scomparso ora per quale motivo è scomparso Ettore Majorana e bisognerebbe fare una piccola riflessione su quello che è accaduto in quegli anni allora Ettore Majorana se diamo per scontato che lui in effetti avesse trovato le leggi della materia avesse scoperto le leggi della materia come la macchina di cui si parlava prima avrebbe dimostrato allora significa che in quegli anni cioè negli anni trenta qualcuno aveva fatto delle scoperte sensazionali non fu il solo perché il suo mentore dell'epoca cioè Enrico Fermi come ben tutti sappiamo scoprì anche l'energia nucleare o perlomeno l'uso dell'energia nucleare che poi si trasformò nella bomba ecco qui vediamo i ragazzi di via Panisperna con Enrico Fermi che è il primo a destra e allora si scoprì l'energia nucleare Majorana scomparve ufficialmente dalla scena pubblica il 27 marzo del 1938 Enrico Fermi ha lasciato l'Italia è fuggito dall'Italia il 6 dicembre del 1938 qualche mese dopo va bene qualche mese dopo ora è anche vero che le leggi razziali del fascismo comunque obbligarono Enrico Fermi a prendere una decisione perché sua moglie che era figlia di un ammiraglio ebreo ma un ammiraglio correva seri pericoli dopo la promulgazione delle leggi razziali allora lui il 6 dicembre del 1938 lasciò ufficialmente l'Italia dalla stazione Termini di Roma per raggiungere Stoccolma dove il 10 il 10 dicembre del 1938 avrebbe ricevuto il premio Nobel per la fisica ok quindi Majorana scompare il 27 marzo quindi alla fine di marzo ai primi di dicembre se ne va anche Enrico Fermi ora che cosa può significare questo a parte come dire la differenza tra i due per quanto riguarda l'energia nucleare perché Ettore Majorana accusava Fermi e gli altri colleghi di usare un sistema come dire violento nello studio dell'energia nucleare lui invece diceva che si poteva analizzare la forza dell'energia nucleare in modo molto più soft molto più semplice ma comunque sia noi stiamo dicendo che in quel periodo nel 1938 qualcuno aveva scoperto un'arma una potenziale arma che avrebbe modificato se mai fosse stata applicata l'esito della seconda guerra mondiale voi cominciate a immaginare Hitler e Mussolini se avessero avuto l'energia nucleare cioè la potenzialità dell'energia nucleare come sarebbe finita la guerra ok probabilmente queste persone erano coscienti di questo e decisero di andarsene decisero di non dare questa enorme scoperta al governo in carica del resto del resto il patto d'acciaio tra Hitler e Mussolini venne firmato nei primi mesi del 1939 quindi loro praticamente hanno anticipato di qualche mese quello che sarebbe stato diciamo così quella che sarebbe stato un'alleanza tra le più disastrose che portò l'Italia alla rovina e comunque sia non solo l'Italia anche la stessa Germania eccetera ma grazie al cielo grazie al cielo vinsero gli alleati ma se se loro avessero disposto se Hitler avesse avuto la facoltà di usare l'energia nucleare ve l'immaginate cosa sarebbe successo chiarissimo Rino mi fanno segno dalla regia abbiamo diverse domande cominciamo a metterne qualcuna in onda ti ne proponiamo una che è stata ripetuta da più amici telespettatori quindi ne leggiamo una per tutti che perché è similare ma il signor Di Stefano sa che un ragazzo un anno fa un anno fa costruirla la macchina costruì una macchina prima di collaudarla gli fu rubata dai gnoti è un fatto accreditabile ma certo che è accreditabile la persona si chiama Oscar Valente e sono stato io a presentarlo a Rolando Pelizza su sua richiesta cioè mi aveva contattato mi ha chiesto se poteva incontrare Rolando Pelizza io non ho avuto nessun problema glielo ho detto poi loro si sono incontrati e alla fine di questo incontro decisero praticamente il ragazzo finanziò l'operazione di costruire questa macchina chi ha fatto la domanda evidentemente non ha letto il mio libro perché nel mio libro c'è tutta la storia di questo di questo ragazzo cosa ha fatto la macchina che gli hanno rubato il fatto che poi lui e Rolando Pelizza sono stati tra virgolette rapiti da queste persone che hanno rubato la macchina e sono stati anche come dire sono stati avvisati avvisati che era meglio che non costruissero mai più una seconda macchina perché in quell'evenienza questi sarebbero ritornati e non si sarebbero limitati a rubare la macchina certo è una storia vera il ragazzo ha perso molti soldi dietro a questa storia stiamo parlando di qualcosa come io non posso dire esattamente quanto comunque tra 150 e 200 mila euro per dietro questo per avere una contezza dei fatti però non si sa queste persone dove venissero e chi fossero giusto? dunque allora il discorso è ci limitiamo a quella che è la testimonianza di Pelizza oppure oppure abbiamo bisogno di prove di altro genere perché non è che sia possibile starsene semplicemente di quello che per quanto onesto e sincero potesse essere fosse soltanto Rolando Pelizza cioè prima di lanciare la croce su qualcuno bisogna fare in modo di avere delle prove più concrete secondo Pelizza queste persone sarebbero state agenti segreti americani ok questo è quello che diceva lui perfetto regi abbiamo altre domande mettiamo qualcun'altra in onda ci scrive Francesco Anile buonasera Francesco ma Ionana parlava di una diversa energia di una diversa fisica senza effetti negativi anzi solo effetti positivi usata grazie Francesco Rino certo lui parlava di una matematica diversa di una fisica diversa però il fatto che come dire fosse tutto positivo non è così il positivo o il negativo sta tutto nelle mani di chi usa questa matematica e questa fisica intendo dire che un coltello serve ad affettare il pane ma può servire anche a tagliare la gola a una persona bisogna vedere chi lo usa e lo stesso vale per la matematica e la fisica di Majorana se quella macchina venisse o fosse stata utilizzata soltanto a scopi benefici chiaramente poteva cambiare la faccia del mondo perché è chiaro che produrre energia pulita a costo zero avrebbe cambiato anche la nostra economia tra le altre cose ma che prove abbiamo di questo certo la stessa macchina così come produceva avrebbe potuto produrre energia pulita poteva anche disintegrare un qualunque bersaglio chiarissimo Rino Edoardo sì no volevo concludere poi la domanda che mi hai anticipato poi su quella di prima perché come ti dicevo nel novecento ci sono stati grandissimi scienziati che senza nulla praticamente riuscivano a fare calcoli matematici che noi oggi con i grandi scienziati fisici che conosciamo nel mondo non riusciamo ancora ad avere questa strumentazione questa conoscenza ecco è diversa non è diversa la fisica tra il novecento e quella di oggi secondo te come mai c'è ancora questo gap che noi riusciamo a colmare di queste conoscenze che ancora non abbiamo prontezza cioè ma io una cosa è che è riuscito ciò che i nostri scienziati ancora non riescono a fare io posso dirti soltanto ho la mia opinione in merito ovviamente perché non è che abbia delle conoscenze tali come non ce l'ha nessuno per quanto riguarda lo sviluppo della fisica negli anni trenta io posso posso dire sulla base di quello che ho studiato per quello che di cui stiamo parlando cioè degli anni che vanno dal trenta al quaranta più o meno c'è stato un progredire della fisica e della matematica che pare abbia portato a dei risultati veramente eccezionali il motivo chi lo può dire in quel momento c'erano dei cervelli tali o forse il momento era propizio per questi studi e quindi questo tipo di matematica e di fisica vennero incrementati e poi si arrivò ammesso e dando per scontato che il risultato sia stato quello anche alla realizzazione di quella leggendaria macchina ripeto comunque la macchina è esistita su questo non ci sono dubbi ci mancano ci manca la documentazione scientifica sull'uso di questa macchina ma che la macchina ci sia stata è fuori discussione non ci sono non ci sono dubbi Rino ci avviamo ormai alla conclusione della nostra ora insieme quindi ti faccio una domanda conclusiva prima poi di affidarti ai saluti nostri e dei nostri amici delle spettature una domanda che la sdoppio in due rami però la focalizzazione è la stessa cioè secondo te dopo 13 anni di studi di ricerche ma penso che sia un argomento che tu continuerai comunque a vivere a sviscerare e a sviluppare qual è il ruolo per te di Pelizza cioè Pelizza è uno speculatore storico è uno che ha cavalcato l'onda si è fatto pubblicità e promozione così come è capitato a tanti in vicende analoghe oppure un genio incompreso che ha portato ad espressione le ricerche e gli studi raggiunti e fatti da Ettore Majorana e secondo te se Ettore Majorana perché tu io mi sono segnato una frase che tu hai usato proprio all'inizio Ettore Majorana quando ha deciso di lasciare la vita pubblica siccome tra le ipotesi della scomparsa una di queste è il suicidio che poi lui avrebbe smentito dicendo il mare mi ha rifiutato tutte quelle frasi storiche tu usando l'espressione quando ha deciso di lasciare fai intendere comunque che c'è una volontà quindi un uomo che ha governato sempre ogni fase della sua vita sia quella pubblica che quella poi occulta quindi secondo te e questa è la domanda qual è la fine poi che ha fatto Ettore Majorana cioè se veramente muore nel 96 se muore negli anni 70 se veramente raggiunge quell'elisir di giovinezza attraverso la macchina poi da lui realizzata e per te oggi Majorana se è un caso da considerare chiuso o da ritenere ancora perso dunque no io non credo che sia un discorso chiuso quello di Ettore Majorana ma credo altrettanto che ci saranno delle come dire delle opposizioni molto forti sul fatto di arrivare ad una verità concreta e accertabile su quello che fu la sua sorte il motivo di questo è che vedete l'analisi compiuta dall'ingegner Vitiello su quelle foto dimostra che le foto che sono state portate da Rolando Pelizza all'attenzione di Vitiello fanno vedere un personaggio 76 86 96 chiaramente molto più giovane molto più giovane di quello che dovrebbe essere secondo l'anagrafe perché è ovvio che nel 76 Ettore Maiorano avrebbe dovuto avere 70 anni nell'86 80 e nel 96 90 e qui abbiamo la foto del 96 quello non è un uomo di 90 anni allora che cosa accadde io non lo so e non avanzo ipotesi per il semplice motivo che qualunque cosa si possa dire sarebbe comunque interpretabile in diversi modi ora noi abbiamo l'evidenza di un uomo che è stato studiato ad un livello scientifico e si è accertato che quell'uomo che dimostra un'età molto più giovane è la stessa persona di quel ragazzo di una trentina d'anni le cui fotografie sono state prese a paragone allora se noi seguiamo questo racconto sembrerebbe che anche ai nostri giorni potrebbe esserci un Majorana con un'età anagrafica diversa da quella fisica che lui dimostra è chiaro? ora però non si può saltare ad un risultato di questo genere scavalcando completamente le leggi di natura e dicendo ah Majorana è vivo è da qualche parte eccetera questo era quello che diceva Pelizza ma noi non lo sappiamo non lo sappiamo per quanto riguarda invece la figura di Rolando Pelizza io ho avuto modo nei 13 anni che l'ho frequentato di accertare come dire la sua rettitudine la sua onestà intellettuale non mi pare e non credo di essere stato preso mai in giro anche perché io non gli ho mai creduto sulla parola io ho sempre verificato quello che mi ha detto cioè se io non trovavo una verifica delle informazioni che lui mi forniva io quelle informazioni non le prendevo neanche in considerazione tenete presente per esempio che lettere e foto mi sono state date e io non le ho accettate ho detto io non voglio questa documentazione se non prima che sia periziata ok se non è stata periziata io non la prendo neanche in considerazione dopo le perizie sì che l'ho presa in considerazione anche perché ci sono stati degli esperti che mi hanno detto sì in effetti le lettere sono state scritte da Ettore Majorana e le fotografie corrispondono alla persona di Ettore Majorana per cui io non ho non ho motivo in cuor mio in coscienza diciamo di dubitare di quello che mi ha detto Rolando Pelizza anche perché lui quando non voleva dire una cosa non la diceva se la diceva vuol dire che era come dire diceva quello che poteva dire perché altrimenti continuava a ripetere io sono tenuto al segreto io sono tenuto al segreto eccetera eccetera quindi non era non era non era affidabile da quel punto di vista la persona per come l'ho conosciuta io era una persona retta e onesta almeno lo è stato nei miei confronti ma fino all'ultimo quando per esempio mi ha dato una medaglietta che mi ha detto io questa l'ho trasmutata da metallo vile in oro nel libro ho raccontato tutto e in effetti quella medaglietta era d'oro però in Italia se uno si azzarda a far analizzare una cosa di questo genere finisce in galera perché non è possibile come dire portare all'attenzione di un perito un oggetto che non riporti il marchio del costruttore secondo la legge italiana e il marchio di caratura ok quella medaglietta non aveva né l'uno né l'altro però era d'oro e infatti poi gliel'ho restituita dicendo grazie mille ma non è possibile avere questa questa medaglietta come prova ecco questa è quella che lui chiamava la prova definitiva per farmi vedere la sua onestà d'animo nei miei nei miei riguardi per cui io lo giudico così l'ho giudicato così ma ripeto non me ne sono mai stato di quello che mi ha detto né lui né altri ho sempre verificato le informazioni e nel libro ho riportato tutte le informazioni verificate e verificabili quelle che non sono né l'uno né l'altro l'ho detto apertamente dicendo guardate io ho questa documentazione però non posso dire che è autentica però ve la mostro perché vi faccio vedere il mondo che girava attorno a Rolando Pelizza ecco vorrei che questo fosse molto preso in considerazione ti ringrazio Rino sarà sicuramente preso in considerazione il caso Majorana Pelizza di Rino Di Stefano ti ringrazio per aver chiarito il tuo metodo di indagine ed il criterio seguito un criterio che possiamo definire tranquillamente criterio scientifico perché comprovato da documenti documentazioni perizie ed atti allora Edoardo affido a te la parte dei saluti prima di dare io l'ultima parola e salutare i nostri amici da rispetto a tutti Sì Salvatore io volevo ringraziare Rino per la sua bella chiacchierata che abbiamo fatto stasera il tema della scienza dei misteri della scienza verrà affrontato anche la settimana prossima anticipiamo che parleremo di Nicola Tesla stavolta e quindi continueremo su questo filone anche per la settimana prossima quindi saluto Rino saluto a te Salvatore e tutti gli amici di Ticuciti che ci hanno seguito fino adesso io ringrazio Edoardo Orma perché la proposta di questo filone dei misteri della storia della scienza è di Edoardo ti ringrazio come sempre Edoardo per aver contattato i nostri ospiti Rino ovviamente capiremo bene che l'argomento Majorana non lo abbiamo esaurito non si può esaurire nell'arco di un'ora io facendo mio anche la proposta mia la proposta della redazione di Edoardo ti invito ufficialmente ad essere presente secondo le tue disponibilità poi concordandole con Edoardo ad una nuova e successiva puntata nel corso dei prossimi mesi ti ringrazio per aver accettato l'invito per quest'ora in nostra compagnia io saluto tutti i nostri amici telespettatori ai quali ricordo che se il nostro lavoro è stato di loro gradimento di lasciare un like un mi piace a questo video e se interessano quelle che sono le tematiche da noi affrontate e trattate ad iscriversi ai nostri canali per restare costantemente aggiornati con noi ringrazio Edoardo Orma Ciro Gaglione dalla redazione Rino Di Stefano da Genova ringrazio per aver accettato il nostro invito e do appuntamento a tutta la nostra comunità di amici alla prossima settimana con una nuova avvincente puntata con questo è davvero tutto buonasera restate sempre grazie a voi buonasera a tutti e di tv siti da Salvatore Veriti grazie a tutti grazie a tutti